Ah, che cavolo sarà successo, c'è qualcuno? C'è qualcuno qui? Ah, proviamo ad andare avanti, perché in questa struttura devo essere sempre io da solo? 9.14 Amici, buonasera No! E niente, mi hanno chiuso Riaprite, per favore, mi avete chiuso Ma dai Oh, aprite Mi volete far smacciullare? No, 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 dallo Allora, no, no, allora, allora, io sto benissimo Allora, io sto benissimo Sì, adesso vorrei farle delle domande Va bene, me le faccio E se rispondi sbagliato, beh, sai cosa succede? Ok, salve, ti voglio inire al quiz? 939, salve, ti voglio inire al qui Allora, iniziamo con il quiz qual è la capitale del basile rio de janeiro rio de janeiro ottimo qual è salvo vuoi unire al quiz fermo ok io ti voglio bene si vai la facciamo che mi ha fregato qual è il bug cioè qual è stato un bug dell'aggiornamento di Natale all'intercom cioè il primo aggiornamento di Natale all'intercom U A non potevi entrare nell'intercom per un mudo B l'intercom non funzionava o C perché sponavi là ah o B o C io non c'ero a Natale ok la risposta era che era bloccata da un mudo allora adesso siamo a te eh schiaffo 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 non sto cantando sto facendo no sto facendo cose go 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 b Sue stiamo scappando benvenuto i nevi contegno al giorno, come fatevi dare? fai cane vieni venite qui amici venite qua vi mangio a tutti unitevi unitevi a noi unitevi a noi unitevi a noi vai prendi di cane unitevi nella gang unitevi nella gang voi andate su quello io valgo a me 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 per la patria per la patria aia 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 chi è Baka? chi è Baka? mi stanno sparando 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 aia voi ci sentite? povero Gabbiano aia ragazzi ragazzi siamo dei soldati adesso vediamo come va che va contro il regolamento aspettate tutti aspettate tutti ragazzi sono il capitano io c'è un altro capitano Quanta è il capitano il capitano sono andati all'azione ragazzi 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 da posizione all'azione famo i seri è praticamente in aia mi cadetti dietro di me porca troia porca no no veloci 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 cosa dobbiamo fare raga? incularci dai dai dentro 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 bello ragazzi mi sono forse sotto noi porca Vodii dobbiamo vabbè via scappate scappate via allora qual'è il piano lo salviamo qua so sinistro dovremmo uscire e qui ti ha porto quello di sicurezza e qui ti ho porto quello di sicurezza la distante paga che a te è sto posto? aspettate a chiamare l'ascensore aspettate a chiamare aspettate tutti ci siamo aspettiamo ma raga ma moriamo come raga c'è la nucleare siamo tipo 7 signor Bacca lei è tutto a posto? si si seguo i protocolli di sicurezza andiamo prima che esplodano verso il bunker ragazzi protocollo di sicurezza I104 via 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 Bacca corra al bunker protocollo I104 non è possibile disabilitarla non abbiamo in nostro possesso lo fai e non possiamo fare nulla niente è stato bello prepararsi all'impatto siamo voluti bene che succede? moriremo? siamo vivi nooo oddio è lui adesso c'è più si vince si vince